Buongiorno amici, guardate che cosa ho qua, un impasto per pizzette morbide che adesso lascerò lievitare. Ho usato come ingredienti mezzo chilo di semola rimacinata, mezzo chilo di farina, 200 cl di latte tiepido, sui 4-500 cl di acqua tiepida, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaino di miele al posto del malto, un cubetto di lievito di birra, ho impostato il tutto, ho lavorato un bel po', ma proprio un bel po'. Voi potete guardare la live per vedere com'è l'impasto, adesso lascio lievitare per un'oretta buona. Fra un'oretta, più o meno, anche di più, farò un'altra live dove vi faccio vedere come preparerò queste pizzette che andranno in forno farcite a piacere e sono ottime, sia come aperitivo che come cena o come da mangiare così. Un bacio e un abbraccio a tutti voi. Grazie.